Per il secondo anno consecutivo l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello è via streaming. La relazione della Presidente Fabrizia Franca Bandera si è aperta con un pensiero a rigopiano nel quinto anniversario, ma la Presidente ha voluto ricordare che il processo che si occupa dei profili civilistici sta facendo regolarmente il suo corso, anche se i tempi sono quelli necessari, dall'estrema complessità della ricostruzione dei fatti, dal numero degli imputati, dal gran numero di parti civili. Mi è accaduto di leggere e ha detto che il tempo è trascorso inutilmente, voglio invece dire che il Tribunale di Pescara dopo la pausa imposta dal lockdown ci sta mettendo il massimo impegno. Risultati positivi per lei, quelli degli otto tribunali e della Corte d'Appello, seppur condizionati della pandemia, migliore rispetto allo scorso anno, meglio nel settore civile rispetto al penale, con una riduzione in generale dell'arretrato e delle pendenze, ma anche l'arretrato del penale non è preoccupante per lei. C'è una diminuzione dei reati predatori, ha detto nella relazione, ha ringraziato le forze di polizia in un momento in cui la mancanza di liquidità potrebbe causare fenomeno di usura, con un riferimento a catanti fondi del PNRR e gli appetiti che potrebbero essere connessi. Aumentano i reati di genere, non solo femminicidi, ha detto che in Abruzzo sono in diminuzione, ma le violenze, reati persecutori, maltrattamenti in famiglia e la cosa grave è che molto spesso le donne non denunciano complesso il lavoro degli uffici minorili, poi sono aumentati i reati dei minori e tanti altri fenomeni. Come sempre il problema della violenza all'interno delle famiglie, in particolare della sua influenza sui minori, scandisce il lavoro quotidiano degli uffici minorili, che quest'anno hanno voluto evidenziare il tema del malessere degli adolescenti, esploso in fase di pandemia e di limitazione della frequenza scolastica. Malessere che si manifesta in termini di aumento dei fenomeni di autolesionismo e disturbi alimentari, soprattutto le ragazze, di abbandono scolastico anche da parte di adolescenti appartenenti a ceti socio-economici elevati, questo è un fenomeno nuovo, di ritiro sociale non transitorio, di dipendenza dagli strumenti informatici. È stato riscontrato inoltre un aumento esponenziale di alcune tipologie di reati commessi da minorenni, violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, pedopornografia, revenge porno. Cenni poi sulla situazione carceraria che ha delle criticità, ma la Franca Bandera ha insistito sul tema della giustizia riparativa e della messa in prova. Negli ultimi due anni a livello di risorse umane qualcosa si è mosso più personale amministrativo, il problema si pone con i magistrati. La Presidente ha fatto presente che arriveranno 190 funzionari, 45 in corte d'appello. Sulla faccenda dei piccoli tribunali e degli accorpamenti con contestazioni in atto, la Presidente fa presente che il 14 settembre è dietro l'angolo, ma loro ad oggi non sanno, perché il Ministero non ha inteso parlare con nessuno, come ci si attrezzerà almeno nei primi tempi per il regolare svolgimento delle attività in quegli oggetto di soppressione. Cenni poi su riforme e prescrizione, sfida della digitalizzazione, cosa che si sta realizzando e che ha permesso durante la pandemia di lavorare a pieno regime diversi gli interventi, il delegato del CSM Giuseppe Marra, Lorenzo del Giudice, delegato dal Ministro della Giustizia, il procuratore generale della Corte d'Appello Alessandro Mancini che ha fatto la sua relazione, l'ordine degli avvocati.